bonjour oggi impariamo la frase negativa strutturata con ne pa la frase negativa è composta da due elementi appunto il ne o n con l'apostrofo e il pa che si mettono rispettivamente prima del verbo e dopo il verbo come nella frase d'esempio je ne suis pas français suis è il verbo il ne va prima il pa va dopo n con l'apostrofo si usa davanti a quei verbi che iniziano con una vocale o un'h muta come negli esempi che seguono tu n'habites pas a paris il verbo è habit comincia con una camuta quindi metterò n con l'apostrofo davanti e pa subito dopo il verbo la stessa cosa vale per el n'aime pas les chiens il verbo è m comincia con una vocale quindi prima del verbo metterò n con l'apostrofo dopo il verbo pa quindi ecco la struttura della frase negativa soggetto più ne più verbo che inizia per consonante oppure n con l'apostrofo se il verbo inizia per vocale o a camuta e infine il pa il parla rus rendiamo negativa questa frase metterò il n prima di parla che è il verbo e il pa subito dopo nella frase sotto il rius ovviamente metterò il pa dopo è che è il verbo non posso mettere ne ma devo mettere n con l'apostrofo perché è inizia con una vocale vediamo altri esempi qui sotto noi ne sommes pas en classe vous n'avez pas cours il n'habite pas a lion quindi come vedete la frase negativa è molto semplice è sufficiente individuare mettere il verbo nella frase som in questo esempio e mettere il ne prima e il pa dopo ovviamente stare attenti che se il verbo inizia con una vocale o una camuta come al solito bisogna apostrofare e quindi metteremo n con l'apostrofo al posto di ne attenzione alla forma negativa gli articoli indeterminativi e partitivi vengono sostituiti da de o de con l'apostrofo sempre quando i nomi iniziano per vocale o a camuta esempio j'ai un gomme non si dice je n'ai pas un gomme ma al posto di un devo mettere de je n'ai pas de gomme quindi ho una gomma non ho nessuna gomma tu a descha diventa tu n'ha pas de cha con il de semplice e la stessa cosa in il mange des orange mangia dell'arancia il ne mange pas d'orange dico l'apostrofo perché orange inizia con vocale anche con il e a la stessa cosa succede quindi gli articoli indeterminativi e partitivi si sostituiscono con il de o de con l'apostrofo come negli esempi che andiamo a vedere adesso il y a du t il n'y a pas de t e non du t quindi viene sostituito il du con il de il y a un agenda il n'y a pas d'agenda si sostituisce un con de con l'apostrofo invece con se e se son la forma negativa si lasciano gli articoli indeterminativi quindi vediamo degli esempi se un gomme è una gomma se n'è pa un gomme non è una gomma se son descha sono des gatti se ne son pas descha non sono des gatti nella lingua parlata molto spesso il ne non si mette la prima parte della negazione quindi avremo frasi tipo j'aime pas le fromage ils ont pas de voiture vous êtes pas italien oppure c'est pas possible come vedete bene in questi esempi non c'è il ne prima del verbo nel posto in cui dovrebbe stare come abbiamo detto seguendo la struttura della frase negativa ma troviamo soltanto il pa e questa struttura della frase negativa senza il ne nella lingua parlata è molto diffusa quindi ricapitolando la frase negativa è formata da soggetto n o n con l'apostrofo più verbo più pa n con l'apostrofo davanti a un verbo che inizia per vocale ho accamato tu n'ha pas compris a bientot 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 Grazie per la visione!